oh finalmente ha finito di piovere adesso questi nuovi signori animali dovranno fare il loro verso e dovranno farlo bene perché dopo arriverà il signor Tarzan avanti la signora Iena su su signora Iena avanti il signor cammello aspettiamo che faccia il pieno d'acqua avanti il signor Gorilla avanti il signor Leopardo avanti il signor Rinoceronte signor Rinocerontino non faccia chias avanti il signor Tarzan è Aiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa